Quando scattiamo fotografie è facile commettere qualche errore o trascurare qualche aspetto, soprattutto se non lo facciamo di mestiere. Nel corso del video di oggi vi farò vedere quello che è uno degli errori più frequenti e che molto spesso smaschera i fotografi dilettanti. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare, mi occupo di fotografia. Oggi vi porto sul set del mio ultimo shooting che si è svolto ieri, il giorno in cui registro ovviamente, non il giorno in cui vedrete questo video. Ieri mi sono recato presso una palestra di nuova apertura per realizzare un servizio fotografico dell'apertura stessa. Abbiamo girato un po' di foto, abbiamo girato un po' di video. In entrambi i casi la regola che vi vado a dire oggi è sempre valida. Prima di cominciare io vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale cliccando il bottone qui sotto. Quelli che lo faranno adesso avranno una probabilità molto alta di migliorare come fotografi nelle prossime settimane. Molto bene, ma io comincio subito facendovi vedere qualcosa di quello che è stato realizzato durante questo servizio fotografico. Come potete vedere si tratta prevalentemente di foto di interni. Non abbiamo fatto solo questo, abbiamo fatto anche altre cose. C'erano dei modelli, delle modelle, degli influencer che sono venuti a prestare la loro immagine per l'apertura di questa palestra. Abbiamo fatto quindi anche del ritratto ambientato, abbiamo fatto anche delle foto, non dico d'azione, perché alla fine era tutta roba posata, eravamo abbastanza fermi e statici, però insomma c'è stato anche del movimento. Nella maggior parte di questi scatti mi sono servito di quello che reputo essere un ausilio insostituibile durante un servizio fotografico, ovvero un treppiede. Perché un treppiede? L'errore di cui vi parlo oggi è proprio quello di avere le fotografie non perfettamente allineate. In particolare trattandosi di fotografia di interni, a maggior ragione in una struttura che come avete potuto vedere ha delle linee verticali preminenti, perché abbiamo addirittura dei neon che vanno dall'alto al basso e quindi l'intera struttura è delineata da questi impennaggi verticali. Ora quando noi scattiamo fotografie dobbiamo assolutamente assicurarci che queste linee verticali rimangano perfettamente parallele al nostro quadro. Questa è una regola di fotografia di architettura che personalmente cerco di rispettare quanto più possibile, perché mi rendo immediatamente conto di che cosa succede quando la infrango, ovvero che le mie foto improvvisamente sembrano meno professionali, meno belle e rischio di essere additato come uno che lavora male. Ora come facciamo a mantenere queste verticali dritte? Beh, secondo me la cosa migliore che possiamo fare è servirci di un treppiede. Oggi vi faccio vedere questo che mi è stato mandato da KNF, come potete vedere abbiamo una bella custodia che è una cosa che io non disdegno mai. Vi faccio vedere la feature che secondo me ci può salvare durante il nostro servizio fotografico. Innanzitutto ovviamente abbiamo a che fare con un design moderno facilmente gestibile, quindi nel momento in cui io lo voglio andare ad aprire con pochi rapidi movimenti vado a mettere in bolla e sono subito pronto a lavorare. Ora la feature che secondo me può salvarci la vita ve la faccio vedere su questo treppiede di KNF che mi è stato mandato direttamente dalla casa. Quindi questa è una recensione onesta perché quando io scelgo di collaborare con un brand cerco di farmi mandare un prodotto di cui ho guardato le caratteristiche e che già mi piace. Quindi non ho nessun problema a parlarvi bene di questo prodotto perché l'ho scelto, mi piaceva già prima che mi arrivasse. Ora in questo caso la cosa che sicuramente ci salva la vita è la testa sfera. Quindi noi abbiamo la possibilità, smollando questo perno, di andare a girare la nostra testa sfera e questo ci consente di allinearci con la massima precisione alle linee verticali della nostra architettura. Notare che qui in cima abbiamo anche la bolla, una bolla che rispetto ad altri treppiedi che ho visto, adesso c'è questa mania di mettere la bolla sotto la piastra di aggancio. Quindi una volta posizionata la macchina la bolla non si vede più e questa è una grossa cavolata secondo me. Perché nel corso dello shooting io mi muovo in giro e continuo a cambiarlo questo aggiustamento perché le architetture non sono tutte dritte, i pavimenti non sono tutti regolari e quindi io continuamente devo aggiustare un pochino queste linee verticali. Se la bolla rimane visibile anche con la camera innestata non devo toglierla tutte le volte, quindi faccio meno fatica e ho un ausilio in più. Da questo punto di vista questo secondo me è sicuramente un plus. Poi c'è da dire che il vero punto di forza di questo treppiede in realtà è un altro, ovvero quello di avere un secondo snodo, quindi una seconda testa sfera qui e come potete vedere questo ci consente di andare a posizionare il nostro braccio in orizzontale. In questo modo possiamo fare degli scatti zenitali o possiamo sporgerci oltre degli ostacoli per fare delle fotografie che in altre circostanze avremmo fatto molta fatica a fare. Io vi lascio linkato in card da qualche parte un video in cui ho fatto un unboxing, l'ultimo unboxing che ho fatto sul mio canale, l'ho fatto utilizzando due camere e quindi ho utilizzato questo treppiede per stare zenitale sopra al pacco di cui stavo andando a fare l'unboxing. Quindi può assolutamente essere utile nei contesti più disparati. Già che stiamo parlando di fotografie di interni vi menziono anche un altro problema in cui sovente si incappa quando si realizzano fotografie di interni ed è quello del micromosso. E questo può succedere per due motivi a mio parere. Nel momento in cui scattiamo a mano libera abbiamo delle difficoltà, facciamo più fatica a tenere tutte le linee dritte perché scattiamo liberi e quindi scattiamo e poi ci riposizioniamo. Invece quando siamo su treppiede abbiamo tempo di mettere tutto al suo posto. Questo è un motivo banalmente. Quindi scattare su treppiede ci darà delle fotografie più nitide perché riusciamo a chiudere il diaframma allungando i tempi di posa. Quindi facciamo una foto migliore se lavoriamo col treppiede rispetto di quanto non saremmo in grado di fare a mano libera. Inoltre le fotografie che vi mostro oggi hanno subito una lavorazione molto invasiva perché io ho fatto cinque scatti in bracketing che poi ho unito per creare una fotografia HDR. Le fotografie che presentano delle aree di esposizione molto diverse come può essere un esterno anche molto illuminato ve l'assicurano. Qui avevamo un esterno dove batteva il sole e un interno seppur illuminato però scuro. Questa zona di contrasto le nostre fotocamere non riescono a gestirla e quindi per avere una gamma dinamica più completa si tende a usare il bracketing e fare fotografie HDR. Questo è possibile solamente se utilizziamo un treppiede. Ora un problema con cui mi sono trovato spesso ad avere a che fare è il micromosso anche su treppiede. E questo perché? Per un paio di motivi almeno. Il primo motivo è se stiamo utilizzando un treppiedino di quelli leggeri magari di plastica. Ecco che anche semplicemente andare a premere l'otturatore della nostra fotocamera o anche semplicemente il movimento dello specchio se stiamo utilizzando una fotocamera reflex può in certi casi andare a introdurre un movimento e quindi il nostro scatto viene mosso perché c'è stato un micromovimento. Con un treppiede pesante come questo questa cosa non si verifica più. Siamo in presenza di un treppiede il cui punto di forza non è certamente la leggerezza e la portabilità. Stiamo parlando di una struttura in alluminio che si estende fino a 238 centimetri quindi questo è il treppiede più alto in mio possesso in questo momento. È decisamente il più alto tutti i miei treppiedi arrivano a 1,70 1,80 questo arriva a oltre i due metri quindi è sicuramente il più grande e di conseguenza è anche il più pesante. Anche se devo dire che non è difficile da trasportare perché il più pesante ok però comunque non pesa tanto io l'ho portato in mano tranquillamente. Sì sembrava un po' uno scerpa lo ammetto però come potete vedere si porta in giro senza problemi non era certamente quello la cosa più pesante che avevo addosso. Tuttavia la solidità della struttura mi permette senza nessunissimo problema di posarlo e poi fare le mie operazioni addirittura premendo il bottone di scatto sulla fotocamera. Non ho neanche bisogno di utilizzare il comando remoto che ho utilizzato lo stesso ma avrei potuto non farlo perché qui abbiamo una stabilità superiore rispetto ad altri treppiedi che ho già recensito sul canale. Ovviamente treppiedi che avevano velleità di tutt'altro tipo perché erano magari dei treppiedi leggeri da viaggio in questo caso no questo è un treppiede da lavoro abbastanza serio infatti credo che entrerà stabilmente nel mio zaino perché la sensazione di solidità che restituisce e la praticità d'uso sono assolutamente premianti. Quando si fa fotografia quanto meno perché questo è un treppiede a mio parere puramente fotografico in quanto non ha manipoli per gestire la videocamera. Come già detto io l'ho utilizzato anche per fare video perché comunque funziona benissimo. Ma parliamo un attimo di queste verticali dritte perché voglio cercare di farvi capire perché dobbiamo rispettare questa regola. Pensiamo alla regola dei terzi o alla regola della simmetria. Io so che molti fotografi soprattutto neofiti principianti la vedono come un limite no molti pensano ma perché devo tenere l'orizzonte dritto ma perché devo tenere le verticali dritte ma perché devo collocare il mio soggetto al terzo della foto. Io preferisco fare di testa mia ok vedetela così il rispetto di queste regole non significa non avere una vostra creatività non significa non fare quello che vi piace soprattutto non significa creare delle immagini incasellate significa semplicemente seguire una buona norma che nel corso dei secoli perché deriva dalla storia dell'arte nel corso dei secoli queste norme si sono rivelate premianti. Nel senso che le persone gli osservatori naturalmente preferivano naturalmente intendo per natura preferivano le immagini dipinti in questo caso gli affreschi gli arazzi quello che vogliamo in epoca antica gli osservatori naturalmente preferivano le opere che rispettavano queste regole oppure che le infrangevano per un motivo ben preciso che portasse a un risultato di un certo tipo. Diciamo che globalmente per come creiamo noi le nostre immagini oggi per i social media soprattutto vogliamo ottenere sempre lo stesso risultato ovvero quello di avere un'immagine che cattura lo sguardo. Queste regole aiutano ad avere un'immagine che cattura lo sguardo e aiutano ad avere delle immagini coerenti quindi se io facessi tutte le foto con le linee tutte storte mi ritroverei poi nel feed di instagram con delle foto che sono tutte scompaginate che sembrano un caschino bene insieme all'interno di quello stesso feed o del sito web o di qualunque altro utilizzo anche cartaceo. Nel momento invece in cui abbiamo tutte le nostre linee belle dritte possiamo mettere le nostre fotografie disposte una di fianco all'altra e saranno coerenti vabbè l'esposizione è sempre la stessa la luce è sempre la stessa saranno coerenti anche per la forma perché avranno tutte questo filo conduttore delle linee verticali dritte che sicuramente è più gradevole per l'occhio. Secondo me realizzare un servizio fotografico come questo senza un buon treppiede diventa se non impossibile sicuramente molto ostico ecco perché quando realizzo un servizio fotografico di interni devo per forza avere un treppiede con me e prossimamente vi farò vedere altri lavori realizzati con questo strumento che mi è appena arrivato quindi lo sto ancora provando in tutte le sue sfaccettature perché ha diversi setup possibili. Oggi ve ne ho fatto vedere uno fatemi sapere in un commento se vi interessa perché potremmo potrei io per primo scoprire degli utilizzi particolari di questo braccio a l che personalmente è la prima volta che possiedo e quindi l'ho utilizzato per le cose più banali come uno scatto zenitale ma non ho ancora esplorato pienamente tutte le sue potenzialità. Signori lasciatemi sapere come sempre quello che pensate in un commento io vi ricordo di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sul magico mondo di fotografia videomaking e design è stato come sempre un piacere passare un po del mio tempo con voi e io vi do appuntamento al prossimo video. iscriviti al canale